L'episodio inizia con MacBank che sogna di essere un famoso pianista, più talentuoso di Allevi. Tornato alla realtà, la tazza a naso blu aspetta con impazienza il suo maestro di pianoforte, che altri non è Ludwig, che per chi non l'avesse familiarità col gioco, è il gramoforo antropomorfo che appare sulla terza isola, qui rimodellato e fatto più alto. Da notare che la sua entrata in scena è accompagnata all'inizio della quinta sifonia di Beethoven. Ad ogni modo, Ludwig arriva e dopo aver speso delle belle parole per il suo pupilo Mugman, si prepara a iniziare la lezione. Rispetto al sogno, Mugman si dimostra una vera schiappa, tant'è vero che non riesce nemmeno a suonare il Chopstick. E se lo so suonare io, che sono una frana col pianoforte, allora la cosa è grave. Intanto Caped ritorna alla pescata di gamberetti del ruscello, e sentendo suo fratello, decide di mostrargli come deve suonare. Da qui rimaniamo tutti basiti dal talento di Caped per il piano, di sicuro di più dalla reazione che hanno Ludwig e nonno Bricco nel sentirlo. Ludwig decide di propone al fratello di Mugman di partecipare come suo allievo ad un concorso di pianoforte, che si terrà il giorno dopo al Teatro Calamaio, dove il vincitore potrà vincere 10.000 dollari, che, nella valuta di oggi, equiorrebbero a 177.410,78 dollari, ovvero 176.696,70 euro. Mica robetta. Caped accetta, ma Magben chiede un'altra possibilità di riscattarsi. Ludwig però gli dice che è il piano nella sua vocazione, che dovrebbe provare con gli acquerelli, e se ne va fuori in giro col suo nuovo pupillo. Mugman si ingerosisce e dice di provare a migliorarsi, ma con scarso successo. Sai una cosa? Dovresti provare gli acquerelli. Che cosa hai detto? Visto che non può migliorare, Mugman può fare solo una cosa, mutilare con l'eccesore le mani di Kupad. Fortuna che non ho briccolo ferma. Cosa ti ho detto riguardo all'uso dei miei tagliasiepi per mutilare tuo fratello? Va in cameratura! Aspetta, significa che è già successa questa cosa in passato. A notte fonda, Kupad torna a casa forse ubriaco, visto che scambia il letto di suo fratello per il suo. Ehi, sei arrabbiato con me? Vi sembro arrabbiato? Da lì parte il battibecco tra i due, con Mugman che accusa Kupad di aver rovinato tutto, e con quest'ultimo che lo incolpa per essere solo invidioso del suo talento. Così più tardi, Mugman, con il cosplay del fantasma dell'opera trovata all'Eurospin, si dirige a teatro e piazza un pianoforte sopra il punto esatto dove suo fratello si esibirà. Il giorno dopo però vede suo fratello ancora al cottage, che sta aspettando che Ludwig lo venga a prendere. A un tratto sentono alla radio la melodia che il giorno prima Caped aveva suonato. Si scopre così che Ludwig ha rubato la canzone della tazza affinché vincesse lui la gara di pianoforte. Per fortuna il karma esiste, e il maestro venga schiacciato dal pianoforte piazzato la sera prima da Mugman. Così i due fanno pace, banchettando coi gamberetti, chiamati pure piccole aragoste. Peccato che un'aragosta non è dello stesso avviso. Fine! Ora vorrei che tu abblissi i tasti con... Metagliotelle Rudimentale, ma d'accordo.